alif lam mim questo è il libro su cui non ci sono dubbi una guida per i timorati coloro che credono nell'invisibile assolvono all'orazione e donano di ciò di cui noi li abbiamo provvisti coloro che credono in ciò che è stato fatto scendere su di te e in ciò che è stato fatto scendere prima di te e che credono fermamente all'altra vita quelli seguono la guida del loro signore quelli sono coloro che prospereranno quanto a quelli che non credono a loro non fa differenza che tu li avverta oppure no non crederanno Allah ha posto un sigillo sui loro cuori e sulle loro orecchie e sui loro occhi c'è un velo avranno un castigo immenso tra gli uomini viecchi dice crediamo in Allah e nel giorno ultimo invece non sono credenti cercano di ingannare Allah e coloro che credono ma non ingannano che loro stessi e non se ne accorgono nei loro cuori c'è una malattia e Allah ha aggravato questa malattia avranno un castigo doloroso per la loro menzogna e quando si dice loro non spargete la corruzione sulla terra dicono anzi noi siamo dei conciliatori non sono forse questi i corruttori ma non se ne avvedono che quando si dice loro credete come hanno creduto gli altri uomini rispondono dovremmo credere come hanno creduto gli stolti non sono forse loro gli stolti ma non lo sanno quando incontrano i credenti dicono crediamo ma quando sono soli con i loro demoni dicono in vero siamo dei vostri non facciamo che burlarci di loro Allah si burla di loro lascia che sprofondino nella ribellione accecati sono quelli che hanno scambiato la retta guida con la perdizione il loro è un commercio senza utile e non sono ben guidati assomigliano a chi accende un fuoco poi quando il fuoco ha illuminato i suoi dintorni Allah sottrae loro la luce e li abbandona nelle tenebre in cui non vedono nulla sordi muti ciechi non possono ritornare o come una nuvola di pioggia nel cielo gonfia di tenebre di tuoni di fulmini mettono le loro dita nell'orecchie temendo la morte a causa dei fulmini e Allah a cerchi miscredenti il lampo quasi li acceca ogni volta che rischiara procedono ma quando rimangono nell'oscurità si fermano se Allah avesse voluto li avrebbe privati dell'udito della vista in verità Allah su tutte le cose è potente o uomini adorate il vostro signore che ha creato voi e quelli che vi hanno preceduto così che possiate essere timorati egli è colui che della terra ha fatto un letto e del cielo un edificio e che dal cielo fa scendere l'acqua con la quale produce i frutti che sono il vostro cibo non attribuite con simili ad Allah ora che sapete e se avete qualche dubbio in merito a quello che abbiamo fatto scendere sul nostro servo portate allora una sura simile a questa e chiamate altri testimoni all'infuori di Allah se siete veritieri se non lo fate e non lo farete temete il fuoco il cui combustibile sono gli uomini e le pietre che è stato preparato per i miscredenti e annuncia a coloro che credono e compiono il bene che avranno i giardini in cui scorrono ruscelli ogni volta che sarà loro dato un frutto di ranno già ci era stato concesso ma è qualcosa di simile che verrà loro dato avranno spose purissime e con la rimarranno in eterno in verità Allah non esita a prendere ad esempio un moscerino o qualsiasi altra cosa superiore coloro che credono sanno che si tratta della verità che proviene dal loro signore i miscredenti invece dicono cosa vuol dire Allah con un simile esempio con esso ne allontana molti e molti ne guida ma non allontana che gli iniqui coloro che rompono il patto di Allah dopo averlo accettato spezzano ciò che Allah ha ordinato di unire e spargono la corruzione sulla terra quelli sono i perdenti come potete essere ingrati nei confronti di Allah quando eravate morti ed egli vi ha dato la vita poi vi farà morire vi riporterà alla vita e poi a lui sarete ricondotti egli ha creato per voi tutto quello che c'è sulla terra poi si è rivolto al cielo e lo ha ordinato in sette cieli egli è l'onnisciente e quando il tuo signore disse agli angeli orrò un vicario sulla terra essi dissero metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e vi verserà il sangue mentre noi ti glorifichiamo lodandoti e ti santifichiamo e gli disse in verità io conosco quello che voi non conoscete ed insegnò ad ad amo i nomi di tutte le cose quindi le presentò agli angeli e disse ditemi i loro nomi se siete veritieri e si dissero gloria a te non conosciamo se non quello che tu ci ha insegnato in verità tu sei il saggio il sapiente disse o ad amo informali sui nomi di tutte le cose dopo che gli ebbe informati sui nomi e gli disse non vi avevo forse detto che conosco il segreto dei cieli e della terra e che conosco ciò che manifestate e ciò che nascondete e quando dicemmo agli angeli prosternatevi ad ad amo tutti si prosternarono eccetto iblis che rifiutò per orgoglio e fu tra i miscredenti e dicemmo o ad amo abita il paradiso tu e la tua sposa laziatevene ovunque a vostro piacere ma non avvicinatevi a quest'albero che in tal caso sareste tra gli empi poi iblis li fece inciampare e scacciare dal luogo in cui si trovavano e noi dicemmo andatevene via nemici gli uni degli altri avrete una dimora sulla terra e ne godrete per un tempo stabilito ad amo ricevette parole dal suo signore e alla accolse il suo pentimento in verità egli è colui che accetta il pentimento il misericordioso dicemmo andatevene via tutti quanti se mai vi giungerà una guida da parte mia coloro che la seguiranno non avranno nulla da temere e non saranno afflitti e i miscredenti che smentiscono i nostri segni sono i compagni del fuoco in cui rimarranno per sempre o figli di israele ricordate i favori di cui vi ho colmati e rispettate il mio patto e rispetterò il vostro solo me dovete temere e credete in ciò che ho fatto scendere a conferma di quello che già era sceso su di voi e non siate i primi a rinnegarlo non svendete i miei segni per un prezzo vile e temete soltanto me e non avvolgete la verità di menzogna e non nascondete la verità ora che la conoscete e assolvete l'orazione pagate la decima e inchinatevi con coloro che si inchinano ordinerete ai popoli la carità e dimenticherete voi stessi voi che leggete il libro non ragionate dunque cercate aiuto nella pazienza e nell'adorazione in verità essa è gravosa ma non per gli umili che pensano che in vero incontreranno il loro signore e che in vero torneranno a lui o figli di israele ricordate i favori di cui vi ho colmati e di come vi ho favorito sugli altri popoli del mondo e temete il giorno in cui nessun'anima potrà alcunché per un'altra in cui non sarà accolta nessuna intercessione e nulla potrà essere compensato essi non saranno soccorsi e ricordate quando vi abbiamo liberato dalla gente di faraone che vi infliggeva le torture più atroci sgozzavano i vostri figli e lasciavano in vita le vostre femmine in ciò vi fu un'immensa prova da parte del vostro signore e quando abbiamo diviso il mare per voi quindi vi abbiamo tratti in salvo e abbiamo annegato la gente di faraone mentre voi stavate a guardare e quando stabilimmo con mosè un patto in 40 notti e voi vi prendeste il vitello e agiste dei niqui ma noi vi perdonammo forse ne sareste stati riconoscenti e quando abbiamo dato a mosè il libro e il discrimine forse sarete ben guidati e quando mosè disse al suo popolo o popolo mio in vero vi siete fatti un grande torto prendendovi il vitello pentitevi al vostro creatore e datevi la morte questa è la cosa migliore di fronte al vostro creatore poi allà accolse il vostro pentimento in verità egli accoglie sempre il pentimento e il misericordioso e quando diceste o mosè noi non ti crederemo finché non avremo visto allà in maniera evidente e la folgore vi colpì mentre stavate guardando poi vi resuscitammo dalla morte forse sarete riconoscenti e vi coprimmo con l'ombra di una nuvola e facemmo scendere su di voi la manna e le quaglie mangiate queste delizie di cui vi abbiamo provvisti non è a noi che fecero torto bensì a loro stessi e quando dicemmo entrate in questa città rifocillatevi dove volete a vostro piacimento ma entrate dalla porta inchinandovi e dicendo perdono noi perdoneremo i vostri peccati e aumenteremo coloro che avranno operato il bene ma gli empi cambiarono la parola che era stata data loro e facemmo scendere dal cielo un castigo sugli empi per castigare la loro perversione e quando mosè chiese acqua per il suo popolo dicemmo colpisci la roccia con il tuo bastone e improvvisamente sgorgarono dodici fonti e ogni tribù seppe dove doveva bere mangiate e bevete il sostentamento di alla e non spargete la corruzione sulla terra e quando diceste o mosè non possiamo più tollerare un unico alimento prega per noi il tuo signore che dalla terra faccia crescere per noi legumi cetrioli aglio lenticchie e cipolle e gli disse volete scambiare il meglio con il peggio tornate in egitto colà troverete certamente quello che chiedete e furono colpiti dall'abiezione dalla miseria e subirrono la collera di allà perché dissimulavano i segni di allà e uccidevano i profeti ingiustamente questo perché disobbedivano e trasgredivano in verità coloro che credono e i giudei nazareni o sabei tutti quelli che credono in allà e nell'ultimo giorno e compiono il bene riceveranno il compenso presso il loro signore non avranno nulla da temere e non saranno afflitti e quando stringemmo il patto con voi ed elevammo il monte tenetevi saldi a quello che vi abbiamo dato e ricordatevi di quello che contiene forse potrete essere timorati ma poi volgeste le spalle e senza la grazia di allà e la sua misericordia per voi sareste certamente stati tra i perdenti avrete saputo di quelli dei vostri che trasgredirono il sabato ai quali dicemmo siate scimmiereiette ne facemmo un terribile esempio per i loro contemporanei e per le generazioni che sarebbero seguite e un ammonimento ai timorati e quando mosè disse al suo popolo allavi ordina di sacrificare una giovenca risposero ti prendi gioco di noi mi rifugio in allà dall'essere tra gli ignoranti dissero chiedi per noi al tuo signore che ci indichi come deve essere rispose allà dice che deve essere una giovenca né vecchia né vergine ma di età media fate quello che vi si comanda dissero chiedi per noi al tuo signore che ci indichi di che colore deve essere rispose allà dice che deve essere una giovenca gialla di un colore vivo che rallegri la vista dissero chiedi al tuo signore che dia maggiori particolari perché veramente per noi le giovenche si assomigliano tutte così se alla vuole saremo ben guidati rispose e gli dice che deve essere una giovenca che non sia stata soggiogata al lavoro dei campi o all'irrigazione sana e senza difetti dissero ecco ora ce l'hai descritta esattamente la sacrificarono ma mancò poco che non lo facessero avevate ucciso un uomo e vi accusavate vicenda ma alla palesa quello che ce l'hate allora dicemmo colpite il cadavere con una parte della giovenca così allare suscita i morti e vi mostra i suoi segni affinché possiate comprendere dopo di ciò i vostri cuori si sono induriti ancora una volta ed essi sono come pietre o ancora più duri vi sono infatti pietre da cui scaturiscono i ruscelli che si spaccano perché l'acqua fuoriesca e altre che franano per il timore di allà e allà non è incurante di quello che fate sperate forse che divengano credenti per il vostro piacere quando c'è un gruppo dei loro che ha ascoltato la parola di allà per poi corromperla scientemente dopo averla compresa e quando incontrano i credenti dicono anche noi crediamo ma quando sono tra loro dicono volete dibattere con loro a proposito di quello che allà vi ha mostrato perché lo possano utilizzare contro di voi davanti al vostro signore non comprendete non sanno che allà conosce quello che cellano e quello che palesano e tra loro ci sono illetterati che hanno solo una vaga idea delle scritture sulle quali fanno vane congetture guai a coloro che scrivono il libro con le loro mani e poi dicono questo proviene da allà e lo barattano per un vilprezzo guai a loro per quello che le loro mani hanno scritto e per quello che hanno ottenuto in cambio e hanno detto il fuoco ci lambirà solo per pochi giorni di loro avete forse fatto un patto con allà in tal caso allà non manca mai il suo patto dite a proposito di allà cose di cui non sapete nulla badate chi opera il male ed è circondato dal suo errore questi sono i compagni del fuoco vi rimarranno in perpetuità e coloro che hanno creduto e operato nel bene sono i compagni del paradiso e vi rimarranno in perpetuità e quando stringemmo il patto con i figli di israele dicemmo non adorerete altri che allà vi comporterete bene con i genitori i parenti gli orfani e i poveri userete buone parole con la gente assolverete all'orazione e pagherete la decima ma dopo di ciò avete voltato le spalle a parte qualcuno tra voi e vi siete sottratti e quando accettammo la vostra alleanza vi imponemmo non spargete il sangue tra voi e non scacciatevi l'un l'altro dalle vostre case accettaste il patto e ne foste testimoni e ora invece vi uccidete l'un l'altro e scacciate dalle loro case alcuni dei vostri dandovi manforte nel crimine e nella trasgressione e se sono prigionieri ne pagate il riscatto quando anche solo le speller li vi era stato vietato accettate dunque una parte del libro e ne rinnegate un'altra parte non c'è altro compenso per colui che agisce così se non l'obbrobrio in questa vita e il castigo più terribile nel giorno della resurrezione allà non è incurante di quello che fate ecco quelli che hanno barattato la vita presente con la vita futura il loro castigo non sarà alleggerito e non saranno soccorsi abbiamo dato il libro a mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a gesù figlio di maria prove evidenti e lo abbiamo coadiuvato con lo spirito di santità ogni qual volta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva vi gonfiavate d'orgoglio qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi e dissero i nostri cuori sono incirconcisi ma è piuttosto allà che dia maledetti a causa della loro miscredenza tra loro sono ben pochi quelli che credono e quando da parte di allà venne loro un libro che confermava quello che avevano già mentre prima invocavano la vittoria sui miscredenti quando giunse loro quello che già conoscevano lo rinnegarono maledica allà i miscredenti a che il prezzo hanno barattato le loro anime negano quello che allà ha fatto scendere ribellia l'idea che allà con la sua grazia faccia scendere la rivelazione su chi vuole dei suoi servi sono in corsi in collera su collera i miscredenti avranno un castigo avvilente e quando si dice loro credete in quello che allà ha fatto scendere rispondono crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e rinnegano il resto anche se è la verità che conferma quello che già avevano ricevuto di loro e se siete credenti perché in passato avete ucciso i profeti di allà e certamente mosè vi ha recato prove evidenti poi in sua assenza vi prendeste il vitello e prevaricaste e ricordate quando stringemmo il patto con voi ed elevammo il monte tenetevi saldamente a quello che vi abbiamo dato ed ascoltate dissero ascoltiamo ma disobbediamo e i loro cuori per la miscredenza si abbeverarono al vitello di loro quanto è spregevole quel che vi ordina la vostra credenza se davvero credete di se è vostra la dimora finale presso allà escludendo tutte le altre genti auguratevi la morte se siete veritieri essi non lo faranno mai per ciò che le loro mani hanno commesso allà conosce bene i prevaricatori e vedrai che sono gli uomini più attaccati alla vita persino più degli associatori qualcuno di loro vorrebbe vivere mille anni ma tutto questo non lo salverebbe dal castigo vivesse anche quanto desidera allà osserva quello che fanno di chi è nemico di gabriele e con il permesso di allà lo ha fatto scendere nel tuo cuore a conferma di quello che era venuto in precedenza come guida e buona novella per i credenti chi è nemico di allà e dei suoi angeli e dei suoi messaggeri e di gabriele di michele ebbene sappia che allà è il nemico dei miscredenti in verità abbiamo fatto scendere su di te segni evidenti e solo i perversi li rinnegano ma come ogni qual volta stringono un patto una parte di loro lo infrange in realtà la maggior parte di loro non è credente e quando giunse loro da parte di allà un messaggero che confermava quello che già avevano ricevuto alcuni di quelli a cui erano state date le scritture si gettarono alle spalle il libro di allà come se non sapessero nulla prestarono fede a quel che i demoni raccontarono sul regno di salomone non era stato salomone miscredente ma i demoni insegnarono ai popoli la magia e ciò che era stato rivelato ai due angeli harut e marut a babele essi però non insegnarono nulla senza prima avvertire badate che noi non siamo altro che una tentazione non siate miscredenti e la gente imparò da loro come separare l'uomo dalla sua sposa ma non potevano nuocere nessuno senza il permesso di allà imparavano dunque ciò che era loro dannoso e di nessun vantaggio e ben sapevano che chi avesse acquistato quell'arte non avrebbe avuto parte nell'altra vita come era detestabile quello in cambio del quale barattarono la loro anima se l'avessero saputo se avessero creduto e vissuto nel timore di allà avrebbero avuto da allà ricompensa migliore se solo avessero saputo o voi che credete non dite raina ma dite un zurna e ascoltate gli empi miscredenti avranno un doloroso castigo quelli della gente del libro che sono miscredenti e gli associatori detestano che il vostro signore faccia scendere su di voi la sua benevolenza ma allà sceglie chi vuole per la sua misericordia allà è il padrone dell'immenso favore non abroghiamo un versetto né te lo facciamo dimenticare senza dartene uno migliore uguale non lo sai che allà è onnipotente non sai che allà possiede il regno dei cieli e della terra e all'infuori di lui non c'è per voi né patrono né soccorritore vorreste interrogare il vostro messaggero come in passato fu interrogato Mosè sappiate che chi scambia la fede con la miscredenza in verità si allontana dalla retta via tra la gente del libro ci sono molti che per invidia vorrebbero farvi tornare miscredenti dopo che avete creduto e dopo che anche a loro la verità è apparsa chiaramente perdonateli e lasciateli da parte finché allà non invii il suo ordine in verità allà è onnipotente assolvete l'orazione e pagate la decima e tutto quanto di bene avete compiuto lo ritroverete presso allà allà osserva tutto quello che fate e dicono non entreranno nel paradiso altri che i giudei e i nazareni questo è quello che vorrebbero di portatene una prova se siete veritieri invece coloro che sottomettono ad allà il loro volto e compiono il bene avranno la ricompensa presso il loro signore non avranno nulla da temere e non saranno afflitti gli ebrei dicono i nazareni si basano sul nulla e nazareni dicono i giudei si basano sul nulla che gli uni e gli altri recitano il libro anche quelli che non conoscono nulla parlano alla stessa maniera allà nel giorno della resurrezione giudicherà dei loro dissensi chi è più ingiusto di chi impedisce che nelle moschee di allà si menzioni il suo nome e che anzi cerca di distruggerle costoro non dovranno entrarvi se non impauriti per loro ci sarà ignominia in questa vita e un castigo terribile nell'altra ad allà appartengono l'oriente e l'occidente ovunque vi volgiate ivi è il volto di allà allà è immenso e sapiente dicono allà si è preso un figlio gloria a lui egli possiede tutto quello che è nei cieli e sulla terra tutti gli sono sottomessi egli è il creatore dei cieli della terra quando vuole una cosa dice sì ed essa è e quelli che non sanno nulla dicono perché allà non ci parla o perché non ci fa pervenire un segno divino anche quelli che vennero prima di loro ottennero simili discorsi i loro cuori si assomigliano eppure abbiamo esposto con chiarezza i nostri segni a coloro che credono in verità ti abbiamo inviato come enunzio a un monitore e non ti sarà chiesto conto di quelli della fornace né i giudei né i nazareni saranno mai soddisfatti di te finché non seguirai la loro religione di è la guida di allà la vera guida e se acconsentirai ai loro desideri dopo che hai avuto la conoscenza non troverai né patrono né soccorritore contro allà coloro che hanno ricevuto il libro e lo seguono correttamente quelli sono i credenti coloro che lo rinnegano sono quelli che si perderanno o figli di israele ricordate i favori di cui vi ho colmati e di come vi ho favorito rispetto ad altri popoli del mondo e temete il giorno in cui nessun'anima potrà alcunché per un'altra e non sarà accolta nessuna intercessione e nulla potrà essere compensato ed essi non saranno soccorsi e abramo quando il suo signore lo provò con i suoi ordini ed egli li esegui il signore disse farò di te un imam per gli uomini e i miei discendenti il mio patto disse allà non riguarda quelli che prevaricano e quando facciamo della casa un luogo di riunione e un rifugio per gli uomini prendete come luogo di culto quello in cui abramo ristette e stabilimo un patto con abramo e ismaele purificate la mia casa per coloro che vi gireranno attorno vi si ritireranno si inchineranno e si prosterneranno e quando abramo disse fanno una contrada sicura e provvedi di frutti la sua gente quelli di loro che avranno creduto nell'allà e nell'ultimo giorno disse il signore e a chi sarà stato miscredente concederò un godimento illusorio e poi lo destinerò al castigo del fuoco che tristo avvenire e quando abramo e ismaele posero le fondamenta della casa dissero o signor nostro accettala da noi tu sei colui che tutto ascolta e conosce o signor nostro fa di noi dei musulmani e della nostra discendenza una comunità musulmana mostraci i riti e accetta il nostro pentimento in verità tu sei il perdonatore il misericordioso o signor nostro suscita tra loro un messaggero che reciti i tuoi versetti e insegni il libro e la saggezza e accresca la loro purezza tu sei il saggio il possente chi altri avrà dunque in odio la religione di abramo se non colui che coltiva la stoltezza nell'animo suo noi lo abbiamo scelto in questo mondo e nell'altra vita sarà tra i devoti quando il suo signore gli disse sottomettiti disse mi sottometto al signore dei mondi fu questo che abramo inculcò ai suoi figli e anche giacobbe figli miei allà ha scelto per voi la religione non morite se non musulmani forse eravate presenti quando la morte si presentò giacobbe ed egli disse ai suoi figli chi adorerete dopo di me risposero adoreremo la tua divinità la divinità dei tuoi padri abramo ismaele isacco il dio unico al quale saremo sottomessi questa è gente del passato avrà quello che ha meritato e voi avrete quello che meriterete e non dovrete rispondere della loro condotta dicono siate giudei o nazareni sarete sulla retta via di seguiamo piuttosto la religione di abramo che era puro credente e non associatore dite crediamo in allà e in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su abramo ismaele isacco giacobbe e sulle tribù e in quello che è stato dato a mosè e a Gesù e in tutto quello che è stato dato ai profeti da parte del loro signore non facciamo differenza alcuna tra di loro e a lui siamo sottomessi se crederanno nelle stesse cose in cui voi avete creduto saranno sulla retta via se invece volgeranno alle spalle saranno nell'eresia ma allà si basterà contro di loro egli è colui che tutto ascolta e conosce questa è la tintura di allà chi mai può tingere meglio che allà noi lo adoriamo di volete polemizzare con noi a proposito di allà che è il nostro e vostro signore a noi le nostre opere e a voi le vostre noi ci diamo solo a lui vorreste forse sostenere che abramo ismaele isacco e giacobbe e le tribù erano giudaizzati o nazareni di ne sapete forse più di allà chi è peggiorempio di chi nasconde qualcosa che ha ricevuto da allà ma allà non è incurante di quello che fate questa è gente del passato avrà quello che ha meritato e voi avrete quello che meriterete e non dovrete rispondere della loro condotta e gli stolti diranno chi li ha sviati dall'orientamento che avevano prima di ad allà appartiene l'oriente e l'occidente e li guida chi vuole sulla retta via e così facemmo di voi una comunità equilibrata affinché siate testimoni di fronte ai popoli e il messaggero sia testimone di fronte a voi non ti abbiamo per scritto l'orientamento se non al fine di distinguere coloro che seguono il messaggero da coloro che si sarebbero girati sui tacchi una dura prova eccetto che per coloro che sono guidati da allà allà non lascerà che la vostra fede si perda allà è dolce e misericordioso con gli uomini ti abbiamo visto volgere il viso al cielo ebbene ti daremo un orientamento che ti piacerà volgiti dunque verso la sacra moschea ovunque siate rivolgete il volto nella sua direzione certo coloro a cui è stato dato il libro sanno che questa è la verità che viene dal loro signore allà non è incurante di quello che fate anche se tu recassi a coloro che hanno ricevuto la scrittura a ogni specie di segno essi non seguiranno il tuo orientamento né tu seguirai il loro né seguiranno gli uni l'orientamento degli altri e se dopo che ti è giunta la scienza seguissi i loro desideri saresti certamente uno degli ingiusti coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo riconoscono come riconoscono i loro figli ma una parte di loro nasconde la verità pur conoscendola la verità appartiene al tuo signore non essere tra i dubbiosi ognuno ha una direzione verso la quale volgere il viso careggiate nel bene ovunque voi siate allà vi riunirà tutti in verità allà è onnipotente e da qualunque luogo tu esca volgi il tuo viso verso la santa moschea ecco la verità data dal tuo signore e allà non è disattento a quello che fate e allora da qualunque luogo tu esca volgi il tuo viso verso la santa moschea ovunque voi siate rivolgetele il viso sì che la gente non abbia pretesti contro di voi eccetto quelli di loro che prevaricano non temeteli ma temete me affinché realizzi per voi la mia grazia e forse sarete ben guidati infatti vi abbiamo inviato un messaggero della vostra gente che vi reciti i nostri versetti vi purifichi e vi insegni il libro e la saggezza e vi insegni quello che non sapevate ricordatevi dunque di me e io mi ricorderò di voi siatemi riconoscenti e non rinegatemi o voi che credete rifugiatevi nella pazienza e nell'orazione in vero allà e con coloro che perseverano e non dite che sono morti coloro che sono stati uccisi sulla via di allà che invece sono vivi e non ve ne accorgete sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione dei beni delle persone e dei raccolti ebbene dà la buona novella a coloro che perseverano coloro che quando li coglie una disgrazia dicono siamo di allà e a lui ritorniamo quelli saranno benedetti dal loro signore e saranno ben guidati Safa e Marwa sono veramente fra i segni di allà e non ci sarà male alcuno se coloro che fanno il pellegrinaggio alla casa o la visita correranno tra questi due colli allà sarà riconoscente a chi si sarà imposto volontariamente un'opera meritoria allà è grato sapiente e coloro che dissimulano i segni e le direttive che noi abbiamo rivelato dopo che nel libro chiaramente li esponemmo agli uomini ebbene ecco coloro che all'ha maledetto e che tutti maledicono invece coloro che si sono pentiti e si sono emendati da costoro io accetto il pentimento io sono colui che accoglie il pentimento il misericordioso e i miscredenti che muoiono nella miscredenza saranno maledetti da allà dagli angeli e da tutti gli uomini rimarranno in questo stato in eterno e il castigo non sarà loro alleviato ne avranno attenuanti il vostro dio è il dio unico non c'è altro dio che lui il compassionevole il misericordioso nella creazione dei cieli e della terra nell'alternarsi del giorno e della notte nella nave che solca i mari carica di ciò che è utile agli uomini nell'acqua che all'ha fa scendere dal cielo rivivificando la terra morta e disseminandovi animali di ogni tipo nel mutare dei venti e nelle nuvole costrette a restare tra il cielo e la terra in tutto ciò vi sono segni per la gente dotata di intelletto e fra gli uomini vi sono coloro che attribuiscono ad allà degli uguali e li amano come amano allà ma coloro che credono hanno per allà un amore ben più grande se gli empi potessero vedere come quando vedranno il castigo che tutta la forza è di allà e che allà è implacabile nel castigo quando alla vista del castigo i seguiti sconfesseranno i loro seguaci quando ogni legame sarà spezzato diranno i seguaci ah se avessimo la possibilità di tornare indietro li abbandoneremmo come ci hanno abbandonati così allà li metterà di fronte alle loro azioni affinché si rammarichino non usciranno dal fuoco o uomini mangiate ciò che è lecito e puro di quel che è sulla terra e non seguite le orme di satana in verità egli è un vostro nemico dichiarato certamente vi ordina il male e la turpitudine e di dire a proposito di allà cose che non sapete e quando si dice loro seguite quello che allà ha fatto scendere e si dicono seguiremo piuttosto quello che seguivano i nostri antenati e ciò anche se i loro antenati non comprendevano e non erano ben guidati i miscredenti sono come bestiame di fronte al quale si urla ma che non ode che un indistinto richiamo sordi, muti, ciechi non comprendono nulla o voi che credete mangiate le buone cose di cui vi abbiamo provvisto e ringraziate Allah se è lui che adorate in verità vi sono state vietate le bestie morte il sangue, la carne di porco e quello su cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah e chi vi sarà costretto senza desiderio e intenzione non farà peccato Allah è perdonatore, misericordioso coloro che nascondono parti del libro che Allah ha fatto scendere e lo svendono vi il prezzo si riempiranno il ventre solo di fuoco Allah non rivolgerà loro la parola nel giorno della resurrezione e non li purificherà avranno un castigo doloroso hanno scambiato la retta via con la perdizione e l'assoluzione con il castigo come sopporteranno il fuoco questo perché Allah ha fatto scendere il libro con la verità e coloro che dissentono a proposito del libro si allontanano nello scisma la carità non consiste nel volgere i volti verso l'oriente e l'occidente ma nel credere in Allah e nell'ultimo giorno negli angeli nel libro e nei profeti e nel dare dei propri beni per amor suo ai parenti agli orfani ai poveri ai viandanti diseredati ai mendicanti e per liberare gli schiavi assolvere l'orazione e pagare la decima coloro che mantengono fede agli impegni presi coloro che sono pazienti nelle avversità e nelle ristrettezze e nella guerra ecco coloro che sono veritieri ecco i timorati o voi che credete in materia di omicidio vi è stato prescritto il contrappasso libero per libero schiavo per schiavo donna per donna e colui che sarà stato perdonato da suo fratello venga perseguito nella maniera più dolce e paghi un indennizzo questa è una facilitazione da parte del vostro signore e una misericordia ebbene chi di voi dopo di ciò trasgredisce la legge avrà un doloroso castigo nel contrappasso c'è una possibilità di vita per voi che avete intelletto forse diventerete timorati di Allah quando la morte si avvicina a uno di voi se lascia dei beni gli è prescritto il testamento in favore dei genitori e dei parenti secondo il buon uso questo è un dovere per i timorati e chi lo altererà dopo averlo ascoltato ebbene il peccato grava su coloro che l'hanno alterato Allah è audiente sapiente ma chi teme un'ingiustizia o un peccato da parte di un testatore e ristabilisce la concordia non avrà commesso peccato Allah è perdonatore misericordioso o voi che credete vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto forse diverrete timorati digiunerete per un determinato numero di giorni chi però è malato o è in viaggio digiuni in seguito altrettanti giorni ma per coloro che a stento potrebbero sopportarlo c'è un'espiazione il nutrimento di un povero e se qualcuno dà di più è un bene per lui ma è meglio per voi digiunare se lo sapeste è nel mese di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano guida per gli uomini e prova diretta direzione e distinzione chi di voi ne testimoni l'inizio digiuni e chiunque è malato o è in viaggio assolve in seguito altrettanti giorni Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio affinché completiate il numero dei giorni e proclamiate la grandezza di Allah che vi ha guidato forse sarete riconoscenti quando i miei serviti chiedono di me ebbene io sono vicino rispondo all'appello di chi mi chiama quando mi invoca procurino quindi di rispondere al mio richiamo e credano in me sì che possono essere ben guidati nelle notti di digiuno vi è stato permesso di accostarvi alle vostre donne esse sono una veste per voi e voi siete una veste per loro Allah sa come ingannavate voi stessi ha accettato il vostro pentimento e vi ha perdonati frequentatele dunque e cercate quello che Allah vi ha concesso mangiate e bevete finché all'alba possiate distinguere il filo bianco dal filo nero quindi digiunate fino a sera ma non frequentatele se siete in ritiro nelle moschee ecco i limiti di Allah non li sfiorate così Allah spiega agli uomini i suoi segni affinché siano timorati non divoratevi l'un l'altro i vostri beni e non datene ai giudici affinché vi permettono di appropriarvi di una parte dei beni altrui iniquamente e consapevolmente quando ti interrogano sui nuovi luni rispondi servono alle genti per il computo del tempo e per il pellegrinaggio non è un'azione pie entrare in casa dalla parte posteriore la pietà è nel timore di Allah entrate pure nelle case passando per le porte e temete Allah affinché possiate essere tra coloro che prospereranno combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono ma senza eccessi che Allah non ama coloro che cedono uccideteli ovunque li incontriate e scacciateli da dove vi hanno scacciati la persecuzione è peggiore dell'omicidio ma non attaccateli vicino alla santa moschea fino a che essi non vi abbiano aggredito se vi assalgono uccideteli questa è la ricompensa dei miscredenti se però cessano allora Allah è perdonatore misericordioso combatteteli finché non ci sia più persecuzione e il culto sia reso solo ad Allah se desistono non ci sia ostilità a parte contro coloro che prevaricano mese sacro per mese sacro e per ogni cosa proibita un contrappasso aggredite coloro che vi aggrediscono temete Allah e sappiate che Allah è con coloro che lo temono siate generosi sul sentiero di Allah non gettatevi da soli nella perdizione e fate il bene Allah ama coloro che compiono il bene e assolvete per Allah al pellegrinaggio e alla visita se siete impediti a ciò inviate un'offerta di quel che potete e non rasatevi le teste prima che l'offerta sia giunta al luogo del sacrificio se però siete malati o avete un morbo alla testa vi riscatterete con il digiuno con un'elemosina o con un'offerta sacrificale quando poi sarete al sicuro colui che si è desacralizzato tra la visita e il pellegrinaggio deve fare un sacrificio a seconda delle sue possibilità e chi non ne ha i mezzi digiuni per tre giorni durante il pellegrinaggio e altri sette una volta tornato a casa sua quindi in tutto dieci giorni questo per chi non ha famiglia nei pressi della Santa Moschea temete Allah e sappiate che Allah è severo nel castigo il pellegrinaggio avviene nei mesi ben noti chi decide di assolverlo si astenga dai rapporti sessuali dalla perversità e dai litigi durante il pellegrinaggio Allah conosce il bene che fate fate provviste ma la provvista migliore è il timor di Allah e temete me voi che siete dotati di intelletto non sarà per nulla peccato se cercherete di guadagnarvi la grazia del vostro Signore poi quando lasciate Arafa ricordatevi di Allah presso il sacro monumento e ricordatevi di Lui di come vi ha mostrato la via nonostante foste fra gli sviati fate la marcia da dove la fanno tutti gli altri e chiedete perdono ad Allah Allah è perdonatore misericordioso e quando avrete terminato i riti ricordate Allah come ricordate i vostri padri e con maggior venerazione vi sono persone che dicono Signore dacci le cose buone di questo mondo questi non avranno parte nell'altra vita e ci sono persone che dicono Signor nostro dacci le cose buone di questo mondo e le cose buone dell'altra vita e allontanaci dal fuoco questi avranno la parte che si sono meritati Allah è rapido al conto e ricordatevi di Allah nei giorni contati ma non ci sarà peccato per chi affretta il ritorno dopo due giorni e neppure per chi si attarda se teme Allah temete Allah e sappiate che sarete tutti ricondotti a Lui tra gli uomini c'è qualcuno di cui ti piacerà l'occhio a proposito della vita mondana chiama Allah a testimone di quello che ha nel cuore quando invece è un polemico inveterato quando ti volge le spalle percorre la terra spargendovi la corruzione e saccheggiando le colture e il bestiame e Allah non ama la corruzione e quando gli si dice temi Allah un orgoglio criminale lo agita l'inferno gli basterà che tristo giaciglio ma tra gli uomini ce n'è qualcuno che ha dato tutto se stesso alla ricerca del compiacimento di Allah Allah è dolce con i suoi servi o voi che credete entrate tutti nella pace non seguite le tracce di Satana in verità egli è il vostro dichiarato nemico ma se cadete ancora in errore dopo che avete ricevuto le prove sappiate allora che Allah è eccelso saggio forse aspettano che Allah venga avvolto in ombre di nuvole con gli angeli ma tutto è ormai deciso ed è ad Allah che ritorna ogni cosa chiedi ai figli di Israele quanti segni evidenti abbiamo inviato loro ebbene chi altera il favore di Allah dopo che esso gli è giunto allora veramente Allah è violento nel castigo ai miscredenti abbiamo reso piacevole la vita terrena ed essi scherniscono i credenti ma coloro che saranno stati timorati saranno superiori a loro nel giorno della resurrezione Allah dà a chi vuole senza contare gli uomini formavano un'unica comunità Allah poi inviò loro i profeti in qualità di nunzi a monitori fece scendere su di loro la scrittura con la verità affinché si ponesse come criterio tra le genti a proposito di ciò su cui divergevano e disputarono ribelli gli uni contro gli altri proprio coloro che lo avevano eppure erano giunte loro le prove Allah con la sua volontà guidò coloro che credettero a quella parte di verità sulla quale gli altri litigavano Allah guida chi vuole sulla retta via credete forse che entrerete nel paradiso senza provare quello che provarono coloro che furono prima di voi furono toccati da disgrazie e calamità e furono talmente scossi che il messaggero e coloro che erano con lui gridarono quando verrà il soccorso di Allah non è forse vicino il soccorso di Allah ti chiederanno cosa dobbiamo dare nell'emosina di i beni che erogate siano destinati ai genitori ai parenti agli orfani ai poveri e ai viandanti diseredati e Allah conosce tutto il bene che fate vi è stato ordinato di combattere anche se non lo gradite ebbene è possibile che abbiate avversione per qualcosa che invece è un bene per voi e può darsi chiamiate una cosa che invece vi è nociva Allah sa e voi non sapete ti chiedono del combattimento nel mese sacro di combattere in questo tempo è un grande peccato ma più grave è frapporre ostacoli sul sentiero di Allah e distogliere da lui e dalla santa moschea ma di fronte da Allah peggio ancora scacciarne gli abitanti l'oppressione è peggiore dell'omicidio ebbene essi non smetteranno di combattervi fino a farvi allontanare dalla vostra religione se lo potessero e chi di voi rinnegerà la fede e morirà nella miscredenza ecco chi avrà fallito in questa vita e nell'altra ecco i compagni del fuoco vi rimarranno in perpetuo in verità coloro che hanno creduto sono emigrati e hanno combattuto sulla via di Allah questi sperano nella misericordia di Allah Allah è perdonatore misericordioso ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo di in entrambi c'è un grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio e ti chiedono cosa dobbiamo dare nell'emosina di il sovrappiù così Allah vi espone i suoi segni affinché meditiate su questa vita e sull'altra e ti interrogano a proposito degli orfani di far loro del bene è l'azione migliore e se vi occupate dei loro affari considerate che sono vostri fratelli Allah sa distinguere chi semina il disordine da chi fa il bene se Allah avesse voluto li avrebbe afflitti egli è potente e saggio non sposate le donne associatrici finché non avranno creduto che certamente una schiava credente è meglio di un'associatrice anche se questa vi piace e non date spose agli associatori finché non avranno creduto che certamente uno schiavo credente è meglio di un associatore anche se questi vi piace costoro vi invitano al fuoco mentre Allah per sua grazia vi invita al paradiso e al perdono e manifesta ai popoli i segni suoi affinché essi li ricordino ti chiederanno dei rapporti durante i mestrui di sono un danno non accostatevi alle vostre spose durante i mestrui e non avvicinatele prima che si siano purificate quando poi si saranno purificate avvicinatele nel modo che Allah vi ha comandato in verità Allah ama coloro che si pentono e coloro che si purificano le vostre spose per voi sono come un campo venite pure al vostro campo come volete ma predisponetevi temete Allah e sappiate che lo incontrerete danne la lieta novella ai credenti con i vostri giuramenti non fate di Allah un ostacolo all'essere caritatevoli devoti e riconciliatori fra gli uomini Allah è colui che tutto ascolta e conosce Allah non vi punirà per la leggerezza nei vostri giuramenti vi punirà per ciò che i vostri cuori avranno espresso Allah è perdonatore paziente per coloro che giurano di astenersi dalle loro donne è fissato il termine di quattro mesi se recedono Allah è perdonatore misericordioso ma se poi decidono il divorzio in verità Allah ascolta e conosce le donne divorziate osservino un ritiro della durata di tre cicli e non è loro permesso nascondere quello che Allah ha creato nei loro ventri se credono in Allah e nell'ultimo giorno i loro sposi avranno priorità se volendosi riconciliare le riprenderanno durante questo periodo esse hanno diritti equivalenti ai loro doveri in base alle buone consuetudini ma gli uomini hanno maggiore responsabilità Allah è potente è saggio si può divorziare due volte dopodiché trattenetele convenientemente o rimandatele con bontà e non vi è permesso riprendervi nulla di quello che avevate donato loro a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allah se temete di non poter osservare i limiti di Allah allora non ci sarà colpa se la donna si riscatta ecco i limiti di Allah non li sfiorate e coloro che trasgrediscono i termini di Allah quelli sono i prevaricatori se divorzia da lei per la terza volta non sarà più lecita per lui finché non abbia sposato un altro e se questi divorzia da lei allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si riprendono purché pensino di poter osservare i limiti di Allah ecco i limiti di Allah che egli manifesta alle genti che comprendono quando divorziate dalle vostre spose e si è trascorso il ritiro riprendetele secondo le buone consuetudini o rimandatele secondo le buone consuetudini ma non trattenetele con la forza sarebbe una trasgressione e chi lo facesse mancherebbe contro se stesso non burlatevi dei segni di Allah ricordate i benefici che Allah vi ha concesso e ciò che ha fatto scendere della scrittura e della saggezza con i quali vi ammonisce temete Allah e sappiate che in verità Allah conosce tutte le cose quando divorziate dalle vostre spose e si è trascorso il termine non impedite loro di risposarsi con i loro ex mariti se si accordano secondo le buone consuetudini questa è l'ammunizione per coloro di voi che credono in Allah e nell'ultimo giorno ciò è più decente per voi e più puro Allah sa e voi non sapete per coloro che vogliono completare l'allattamento le madri allatteranno per due anni completi il padre del bambino ha il dovere di nutrirle e vestirle in base alla consuetudine nessuno è tenuto a fare oltre i propri mezzi la madre non deve essere danneggiata a causa del figlio e il padre neppure lo stesso obbligo per l'erede e se dopo che si siano consultati e entrambi sono d'accordo per svezzarlo non ci sarà colpa alcuna e se volete dare i vostri figli a balia non ci sarà nessun peccato a condizione che versiate realmente il salario pattuito secondo la buona consuetudine temete Allah e sappiate che in verità egli osserva quello che fate e coloro di voi che muoiono lasciando delle spose queste devono osservare un ritiro di quattro mesi e dieci giorni passato questo termine non sarete responsabili del modo in cui dispongono di loro stesse secondo la buona consuetudine Allah è ben informato di quello che fate non sarete rimproverati se accennerete a una proposta di matrimonio o se ne coltiverete segretamente l'intenzione Allah sa che ben presto vi ricorderete di loro ma non proponete loro il libertinaggio dite solo parole oneste ma non risolvetevi al contratto di matrimonio prima che sia trascorso il termine prescritto sappiate che Allah conosce quello che c'è nelle anime vostre e quindi state in guardia sappiate che in verità Allah è perdonatore magnanimo non ci sarà colpa se divorzierete dalle spose che non avete ancora toccato e alle quali non avete stabilito la dote fate loro comunque il ricco secondo le sue possibilità e il povero secondo le sue possibilità un dono di cui possano essere liete secondo la buona consuetudine questo è un dovere per chi vuol fare il bene se divorzierete da loro prima di averle toccate ma dopo che abbiate fissato la dote versate loro la metà di quello che avevate stabilito a meno che esse non vi rinuncino o vi rinunci colui che ha in mano il contratto di matrimonio se rinunciate voi è comunque più vicino alla pietà non dimenticate la generosità tra voi in verità Allah osserva quello che fate siate assidui alle orazioni e all'orazione mediana e devotamente state ritti davanti ad Allah ma se siete in pericolo pregate in piedi o a cavallo poi quando sarete al sicuro ricordatevi di Allah che egli vi ha insegnato quello che non sapevate quelli di voi che moriranno lasciando delle mogli stabiliscano un testamento a loro favore assegnando loro un anno di mantenimento e di residenza se esse vorranno andarsene non sarete rimproverati per quello che faranno di sé in conformità alle buone consuetudini Allah è potente e saggio le divorziate hanno il diritto al mantenimento in conformità alle buone consuetudini un dovere per i timorati così Allah manifesta i suoi segni affinché possiate capire non hai forse visto coloro che uscirono dalle loro case a migliaia per timore della morte poi Allah disse morite e poi rese loro la vita Allah è veramente pieno di grazia verso gli uomini ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti combattete sulla via di Allah e sappiate che Allah è audiente sapiente chi fa ad Allah un prestito bello egli glielo raddoppia molte volte è Allah che stringe la mano e la apre a lui sarete ricondotti non hai visto i notabili dei figli di Israele quando dopo Mosè dissero al loro profeta suscita tra noi un re affinché possiamo combattere sul sentiero di Allah disse e se non combatterete quando vi sarà ordinato di farlo dissero come potremmo non combattere sulla via di Allah quando ci hanno scacciato dalle nostre case noi e i nostri figli ma quando fu loro ordinato di combattere tutti voltarono le spalle tranne un piccolo gruppo Allah ben conosce gli iniqui e disse il loro profeta ecco che Allah vi ha dato per re Saul dissero come potrà regnare su di noi noi abbiamo più diritto di lui a regnare e a lui non sono state concesse ricchezze disse in verità Allah lo ha scelto tra voi e lo ha dotato di scienza e di prestanza Allah dà il regno a chi vuole egli è immenso sapiente e disse il loro profeta il segno della sovranità sarà che verrà con l'arca conterrà una presenza di pace da parte del vostro signore nonché quel che resta di ciò che lasciarono la famiglia di Mosè e la famiglia di Aronne saranno gli angeli a portarla ecco un segno per voi se siete credenti mettendosi in marcia con le sue truppe Saul disse ecco che Allah vi metterà alla prova per mezzo di un fiume chi ne berrà non sarà dei miei eccetto chi ne prenderà un sorso con il palmo della mano tutti bevero eccetto un piccolo gruppo poi dopo che lui e coloro che erano credenti ebbero attraversato il fiume gli altri dissero oggi non abbiamo forza contro Goli e le sue truppe quelli che pensavano che avrebbero incontrato Allah dissero quante volte con il permesso di Allah un piccolo gruppo abbattuto un grande esercito Allah è con coloro che perseverano e quando affrontarono Goli e le sue truppe dissero signore infondi noi la perseveranza fai saldi i nostri passi e dacci la vittoria sul popolo dei miscredenti e li misero in fuga con il permesso di Allah Davide uccise Golia e Allah gli diede la sovranità e la saggezza e gli insegnò quello che volle se se Allah non rispengesse alcuni per mezzo di altri la terra sarebbe certamente corrotta ma Allah è pieno di grazia per le creature questi sono i segni di Allah che ti recitiamo secondo verità in vero tu sei uno degli inviati tra i messaggeri a taluni abbiamo dato eccellenza sugli altri a qualcuno Allah ha parlato e altri gli ha levati a gradi superiori a Gesù figlio di Maria abbiamo dato prove chiare e lo abbiamo coadiuvato con lo spirito puro e se Allah avesse voluto quelli che vennero dopo di loro non si sarebbero uccisi tra loro dopo aver ricevuto le prove ma caddero nel disaccordo alcuni credettero e altri negarono se Allah avesse voluto non si sarebbero uccisi tra loro ma Allah fa quello che vuole o voi che credete elargite di quello che vi abbiamo concesso prima che venga il giorno in cui non ci saranno più commerci amicizie e intercessioni i negatori sono coloro che prevaricano Allah non c'è altro Dio che Lui il vivente l'assoluto non lo prendono mai soppore né sonno a Lui appartiene tutto quello che è nei cieli e sulla terra chi può intercedere presso di Lui senza il suo permesso egli conosce quello che è davanti a loro e quello che è dietro di loro e della sua scienza essi apprendono solo ciò che egli vuole il suo trono è più vasto dei cieli e della terra e custodirli non gli costa sforzo alcuno egli è l'altissimo l'immenso non c'è costrizione nella religione la retta via ben si distingue dall'errore chi dunque rifiuta l'idolo e crede in Allah si aggrappa all'impugnatura più salda senza rischio di cedimenti Allah è audiente sapiente Allah è il patrono di coloro che credono li trae dalle tenebre verso la luce coloro che non credono hanno per patroni gli idoli che dalla luce li traggono alle tenebre ecco i compagni del fuoco in cui rimarranno in eterno non hai visto colui che per il fatto che Allah lo aveva fatto re discuteva con Abramo a proposito del suo signore quando Abramo disse il mio signore è colui che dà la vita e la morte rispose l'altro sono io che do la vita e la morte e Abramo Allah fa sorgere il sole d'oriente fallo nascere l'occidente restò confuso il miscredente Allah non guida i popoli che prevaricano o colui che passando presso una città in completa rovina disse come potrà Allah ridarle la vita dopo che è morta Allah allora lo fece morire per cento anni poi lo resuscitò e gli chiese quanto tempo sei rimasto rispose rimasi un giorno o una parte di esso no disse Allah sei rimasto cento anni guarda il tuo cibo e la tua acqua sono intatti poi guarda il tuo asino dimostriamo tutto ciò affinché tu divenga un segno per gli uomini guarda come riuniamo le ossa e come le rivestiamo di carne davanti all'evidenza disse so che Allah è onnipotente e quando Abramo disse signore mostrami come resusciti i morti Allah disse ancora non credi sì disse Abramo ma fa che il mio cuore sia quieti disse Allah prendi quattro uccelli e falli a pezzi poi mettili una parte su ogni monte e chiamali verranno da te con volo veloce sappi che Allah è eccelso e saggio quelli che con i loro beni sono generosi per la causa di Allah sono come un seme da cui nascono sette spighe e in ogni spiga ci sono cento chicchi Allah moltiplica il merito di chi vuole lui Allah è immenso sapiente quelli che con i loro beni sono generosi per la causa di Allah senza far seguire il bene da rimproveri e vessazioni avranno la loro ricompensa presso il loro signore non avranno nulla da temere e non saranno afflitti le buone parole e il perdono sono migliori dell'elemosina seguita da vessazioni Allah è colui che non ha bisogno di nulla è indulgente o voi che credete non vanificate le vostre lemosine con rimproveri vessazioni come quello che dà per mostrarsi alla gente e non crede in Allah e nell'ultimo giorno egli è come una roccia ricoperta di polvere sulla quale si rovescia un acquazzone e la lascia nuda essi non avranno nessun vantaggio dalle loro azioni Allah non guida il popolo dei miscredenti coloro che invece largiscono i loro averi per la soddisfazione di Allah e per rafforzarsi saranno come un giardino su di un colle quando l'acquazzone vi si rovescia raddoppierà i suoi frutti e se l'acquazzone non lo raggiunge sarà allora la rugiada Allah osserva quello che fate chi di voi vorrebbe possedere un giardino di palme e vigne dove scorrono i ruscelli e dove crescono per lui ogni specie di frutti e colto dalla vecchiaia con i figli ancora piccoli vorrebbe vedere un uragano di fuoco investirlo e bruciarlo così Allah vi dichiara i suoi segni affinché meditiate o voi che credete elargite le cose migliori che vi siete guadagnati e di ciò che noi abbiamo fatto spuntare per voi dalla terra non scegliete appositamente il peggio ciò che voi accettereste soltanto chiudendo gli occhi sappiate che Allah è colui che non ha bisogno di nulla il degno di lode Satana vi minaccia di povertà e vi ordina l'avarizia mentre Allah vi promette il perdone e la grazia Allah è immenso sapiente egli dà la saggezza a chi vuole e chi riceve la saggezza ha ricevuto un bene enorme ma si ricordano di ciò solo coloro che sono dotati di intelletto quali che siano i beni che darete nell'emosina o i voti che avete fatto Allah li conosce e per gli iniqui non ci saranno soccorritori se lasciate vedere le vostre largizioni è un bene ma è ancora meglio per voi se segretamente date i bisognosi ciò espierà una parte dei vostri peccati Allah è ben informato su quello che fate non state e guidarli ma è Allah che guida chi vuole e tutto quello che darete nel bene sarà vostro vantaggio se darete solo per tendere al volto di Allah e tutto quello che darete nel bene vi sarà restituito e non subirete alcun torto date i poveri che sono assediati per la causa di Allah che non possono andare per il mondo a loro piacere l'ignorante li crede agiati perché si astengono dalla mendicità li riconoscerai per questo segno che non chiedono alla gente importunandola e tutto ciò che elargirete nel bene Allah lo conosce quelli che di giorno o di notte in segreto apertamente danno dei loro beni avranno la ricompensa presso il loro Signore non avranno nulla da temere e non saranno afflitti coloro invece che si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana e questo perché dicono il commercio è come l'usura ma Allah ha permesso il commercio e ha proibito l'usura chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore tenga per sé quello che ha e il suo caso dipende da Allah quanto a chi persiste ecco i compagni del fuoco vi rimarranno in perpetuo Allah vanifica l'usura e fa decuplicare l'elemosina Allah non ama nessuno ingrato peccatore in verità coloro che avranno creduto e avranno compiuto il bene avranno assolto l'orazione e versato la decima avranno la loro ricompensa presso il loro Signore non avranno nulla da temere e non saranno afflitti o voi che credete temete Allah e rinunciate ai profitti dell'usura se siete credenti se non lo farete vi è dichiarata guerra da parte di Allah e del suo messaggero se vi pentirete conserverete il vostro patrimonio non fate torto e non subirete torto chi è nelle difficoltà abbia una dilazione fino a che si risollevi ma è meglio per voi se rimetterete il debito se solo lo sapeste e temete il giorno in cui sarete ricondotti verso Allah allora ogni anima avrà quello che si sarà guadagnato nessuno subirà un torto o voi che credete quando contraete un debito con scadenza precisa mettetelo per iscritto che uno scriba tra di voi lo metta per iscritto secondo giustizia lo scriba non si rifiuti di scrivere secondo quel che Allah gli ha insegnato che scriva dunque e sia il contraente a dettare temendo il suo signore Allah e badi a non diminuire in nulla se il debitore è deficiente o minorato o incapace di dettare lui stesso detti il suo procuratore secondo giustizia chiamate a testimoni due dei vostri uomini o in mancanza di due uomini un uomo e due donne tra coloro di cui accettate la testimonianza in maniera che se una sbagliasse l'altra possa rammentarle i testimoni non rifiutino quando sono chiamati non fatevi prendere da pigrizia nello scrivere il debito e il termine suo sia piccolo grande questo è più giusto verso Allah più corretto nella testimonianza e atto ad evitarvi ogni dubbio a meno che non sia una transazione che definite immediatamente tra voi in tal caso non ci sarà colpa se non lo scriverete chiamate testimoni quando trattate tra voi e non venga fatto alcun torto agli scrivi ai testimoni e se lo farete sarà il segno dell'impietà che è in voi temete Allah è Allah che vi insegna Allah conosce tutte le cose se siete in viaggio e non trovate uno scriba scambiatevi dei pegni se qualcuno affida qualcosa ad un altro restituisca il deposito il depositario e tema Allah il suo signore non siate reticenti nella testimonianza che in vero chi agisce così ha un cuore peccatore Allah conosce tutto quello che fate ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra che lo manifestiate o lo nascondiate Allah vi chiederà conto di quello che è negli animi vostri e perdonerà chi vuole e castigherà chi vuole Allah è onnipotente il messaggero crede in quello che è stato fatto scendere su di lui da parte del suo signore come del resto i credenti tutti credono in Allah nei suoi angeli nei suoi libri e nei suoi messaggeri non facciamo differenza alcuna tra i suoi messaggeri e dicono abbiamo ascoltato e obbediamo perdono signore e a te che tutto ritorna Allah non impone a nessun'anima un carico al di là delle sue capacità quello che ognuno avrà guadagnato sarà a suo favore e ciò che avrà demeritato sarà a suo danno signore non ci punire per le nostre dimenticanze e i nostri sbagli signore non caricarci di un peso grave come quello che imponesti a coloro che furono prima di noi signore non imporci ciò per cui non abbiamo la forza assolvici perdonaci abbi misericordia di noi tu sei il nostro patrono dacci la vittoria sui miscredenti in nome di Allah il compassionevole il misericordioso la lode appartiene ad Allah signore dei mondi il compassionevole il misericordioso re del giorno del giudizio te noi adoriamo e a te chiediamo aiuto guidaci sulla retta via la via di coloro che hai colmato di grazia non di coloro che sono incorsi nella tua ira né degli sviati di grazia